Il primo non mi volevo non fare, ci sono... Mi scendono nel fondo un po', cioè anche con questo... Con questa pagina io ho fatto... No? Mi chiedevi, mi chiedevi, mi chiedevi fino alla volta. Che cantina? Che finale per il finale? Ehm, tutto, tutto termina. Che sta a fare il finale Carmela? Grazie soprattutto a Valencia e a Valenziani. È stata molto linda come vacaciones. però italia es italia, italia es italia, imparatevi a fare il caffè, belle femmine valenziane, complimenti, pizza non è cosa, togli manos, viva manos, paella buona, complimenti, siamo pronti per partire ciao Porta 7 Questa è la roba di ceramica, stanno gli impiostri Quella tua là dentro, non so quando arriva a Napoli Mi metto le mani addosso tutti e 10 A Napoli soprattutto Tu puoi stare pure qua dentro Non mettono qua lì in giro E perché è a Napoli? Perchè? Per favore Non metto le mani addosso Noi, non ho mai fatto lì Ho faccio 3 anni e presto Non ho mai fatto la nostra Oddio, non ho mai fatto 3 o 2 anni Non posso riprovare la maninaccia Quasi veniva, Lari? Siamo sfatti, ti ho detto che non togliamo le sette, perché se sei vendita mi hai messo le sei e mezzo, vabbè, sono sette. Grazie a tutti.